Cari amici, oggi ho il piacere di presentarvi i favolosi Scooter Sovrana, un'azienda specializzata da tantissimi anni nella produzione di ausili per anziani e per chi ha problemi di mobilità. Se avete quindi difficoltà a muovervi, anche per fare le cose più semplici, come andare a fare la spesa, andare dal medico, andare a trovare un amico che magari abita a pochi metri di distanza dalla vostra abitazione, con uno Scooter Sovrana ritroverete la vostra libertà, che è davvero un bene impagabile. Sovrana vi dà la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di scooter. Che cosa dovete fare? Innanzitutto chiamare il numero verde che vedete in sovraimpressione, che non vi impegnerà in alcun modo, ma servirà solamente a fissare un appuntamento a casa vostra quando voi sarete comodi con un nostro consulente del benessere. L'abbiamo voluto chiamare così proprio perché servirà a consigliarvi, a consigliare lo scooter Sovrana più adatto a voi. E allora cosa aspettate? Chiamate subito il numero verde per prenotare a casa vostra, in maniera assolutamente gratuita e senza impegno, uno degli scooter elettrici Sovrana.